Total Body Cardio con pesetti, 10 minuti di lavoro da combinare ad altri workout oppure da inserire come unica sessione di allenamento dopo una sessione di riscaldamento. Iniziamo! Ok ragazzi, andiamo giù, push up, ginocchio a terra. Scendiamo bene, ginocchio a terra. Scendiamo e saliamo. Prendi aria e buti fuori quando vieni su. 3, 2, 1. Ok. Recupero. Recupero attivo. Andiamo giù, sempre push up, ginocchio a terra. Vai. Pam, pam. Il ginocchio push up a terra è un push up, ginocchio a terra, scusate, è un push up assistito, proprio base per chi ha le prime armi. Vai. 3, 2, 1. A lì, recupero. Ora prendiamo il pesetto, bici, piedi a martello, alternato. Marghiamo le gambe, piegate. Pam, pam. Spalle dritte. Portiamo verso le spalle. Tratteniamo in discesa. Vai. Addome contratto. 10 secondi. E martello. Quindi la posizione è la seguente. 3, 2, 1. Recupero attivo. Bicipiti più spinta in alto. Stessa posizione di prima. Piega un po' le gambe per non scaricare la schiena. Vai. Coordina bene il movimento. Gira su, sopra la testa e chiudi. Vai. Respirazione. Sempre gambe piegate per non scaricarne la schiena. Il peso. Sopra la testa. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Bicipiti frontali. Respirazione. Li facciamo insieme stavolta. Pam. E trattieni in discesa. Piega sempre le gambe. Testa bloccate. Spalle bloccate. Portiamo il peso verso la spalla. Gomito bloccato. Isoliamo il bicipite. Vai. 10 secondi. Gambe piegate. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. Poggiamo i pesi. Entriamo in saltellata laterale. 5, 4, 3, 2, 1. Vai con la saltellata. Respirazione. Fai lavorare anche le braccia. Mai lavorare in apnea. Respira sempre. Naso bocca. Naso bocca. 5, 4, 3, 2, 1. Trasformiamo. Jumping jack. Vai. Vai. Separi i movimenti. 3, 2, 1. Jumping jack. Alzata frontale. Vai. su, su, su. Frontale sopra. Frontale sopra. Mantieni il ritmo del video. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Torniamo in jumping jack. Solo sopra. Pam, pam, pam. Mantieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Salto sformicciato. Lavoro di braccia. Mantieni il ritmo. Respira. Naso bocca. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Andiamo giù. Plank sui gomiti. Lavoriamo addome. Core stability. Andiamo giù. Piegami i gomiti. Sali. Non barcolare con il busto. Né giù, né su. Dritto. Abbasso la testa. Mantieni la posizione. 3, 2, 1. Sali. Recupero attivo. Recupero attivo sul posto. Recupera. Non ti fermare mai. Sempre in movimento. Riandiamo giù. Plank sui gomiti. Vai. Sali. Mantieni. Glutei tesi. Addome contratto. Mantieni la posizione retta. Non barcolare. 5, 4, 3, 2, 1. Sali. Recupero. Recupero attivo. Respira. Riprendiamo i pesi. Passiamo tricipite. Doppio piegamento indietro. Andiamo giù. Blocchiamo il gomito. E spingiamo dietro. Vai. 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 Spingi dietro. Respira. Piega le gambe. Gomiti bloccati. Spingiamo dietro. 3, 2, 1. Ok. Recupero. Rematore. Andiamo sempre giù. Braccia in avanti. Blocchiamo il busto. E tiriamo verso di noi. Gomiti in fuori. Respirazione. Il tronco è bloccato. Lavorano solo le braccia. Attiviamo braccia, dorso. 10 secondi. Mantieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo su. Ritordiamo il tricipite. Dopo piegamento indietro. Cambiamo lato. Pieghiamo. Gomiti bloccati. A L. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Dinocchio piegato. Ti aiuta a spingere un po'. Vai. Pam. 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 Respirazione. 10 secondi. Sempre il gomito bloccato. E spingiamo dietro. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. Jumping jack. Appoggiiamo i pesi. Recupera. 3, 2, 1. Vai. 5 secondi. Salterata laterale. 3, 2, 1. Salterata laterale. Vai. Respira. Fai lavorare le braccia. 10 secondi. Cambiamo. Jumping jack. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Jumping jack. Pam. 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 Mantieni il ritmo. 3, 2, 1. Variabile. Alzata frontale. Vai. Mantieni il ritmo. Sopra frontale. Sopra frontale. 10 secondi. respira. 5, 4, 3, 2, 1. Ritorniamo in jump jack. Hop. 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 3, 2, 1. Salto sformiciato. Vai. Cambi veloci. Decisi. Respira. Segui il video. Respirazione. Gas e bocca. Non lavorare in apnea. Vai. 3, 2, 1. Recupero. Recupero. Riprendiamo i pesi. e andiamo in pectoral. Piediamo le gambe. Sui pesi. Vai. Respira. Apro. Chiudo. Movimento lento. Controllato. Vai. 3, 2, 1. Spinte. Vai. Vai. Sopra la testa. Sali. Gambe sempre piegate per non scaricare la schiena. Vai. Vai. 3, 2, 1. Pectoral. E spinte. Vai. Uniamo i due esercizi. Chiudi. Apri. Spingi. Controllato. Lento. Separa bene i due movimenti. 3, 2, 1. Ok. La tua sessione è finita. Al prossimo allenamento. Vamos. Sali. 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 Sali.